tutto, ma evita di soffrire. Questa è una cosa fondamentale. Quando vogliamo conquistare una persona, quando teniamo a una relazione, è giusto fare di tutto, ma l'unica cosa che non va fatta è quella di soffrire, per diversi motivi. Intanto che la sofferenza in amore non porta da nessuna parte, anzi, porta dalla parte sbagliata, perché fare di tutto significa mettere in atto strategie di comunicazione seduttiva per coinvolgere la persona che ti interessa, per riuscire a far rinumerare la persona che ti interessa, ma queste strategie puoi metterle in atto solamente se non entri in uno stato di sofferenza. Quando entri, qualora tu entrassi in uno stato di sofferenza, in uno stato di malessere, non saresti in grado di mettere in atto nessuna strategia, perché ogni volta che noi soffriamo, tra virgolette, cioè entriamo in uno stato di malessere, succede una cosa fondamentale, che la parte cognitiva, logico-razionale, si destruttura, cioè perde potere, perde capacità di gestire i nostri comportamenti e ogni volta che la parte logico-razionale perde la possibilità di gestire i comportamenti, subentra un'altra parte, che è la sfera emotiva che inizia a guidare, diciamo così, i nostri comportamenti. E si aggancia sempre di più a situazioni di sofferenza, per cui entri in un loop per cui più soffri, più soffrirai. E più soffrirai, meno sarai in grado di mettere in atto le strategie giuste per coinvolgere la persona che ti interessa. E quindi continuerai a perseverare, diciamo così, a intraprendere questo girone dantesco, questo girone infernale in cui non otterrai risultati, la sofferenza aumenterà, più la sofferenza aumenterà, meno risultati otterrai e andrai avanti così. E l'unico risultato sarà quello di lapidare un patrimonio. Perché ognuno di noi possiede un patrimonio molto importante, questo patrimonio si chiama tempo ed è limitato. Ogni essere umano, statisticamente, diciamo che ha circa a disposizione 30.000 giorni all'anno, più o meno, che rappresenta la vita media. Ora uno dice 30.000 giorni, se tu ci pensi, sono anche pochi. E quindi è veramente un patrimonio che non devi dilapidare. Perché non ti potrà mai più ritornare. Ogni giorno perso a stare dietro a una persona che ti fa soffrire, un giorno preso, è buttato nel cesso fondamentalmente. E a buttarne via, diciamo, qualche migliaio vuol dire che fai una grande percentuale della tua vita. Per cui, ma oltretutto uno dice, se servisse a qualcosa, soffrire servisse a qualcosa in amore, ma sì, ma butto via anche 10.000 giorni, diciamo così, un terzo della mia vita. Però gli altri due terzi me li godo e mi vivo delle belle storie d'amore. E allora uno dice, vabbè, dilapidati pure 10.000 giorni e poi gli altri 20.000 ti godrai degli amori fantastici. Invece non è così. Tu dilapidi un patrimonio che invece potresti usare molto meglio, potresti usare molto meglio per stare bene fondamentalmente e ottenere molti più risultati. Quindi più, diciamo, riesci a essere distaccato dal risultato, più riesci a essere, per così dire, indifferente al risultato, meno sofferenza vivrai, più capacità avrai, più forza avrai per coinvolgere le persone che ti interessano, più autostima avrai dentro di te e più possibilità di successo, le possibilità di successo aumenteranno. Aumenteranno in modo esponenziale. E tieni presente un altro fattore importante che è che la, come dire, la sofferenza genera paura. E la paura, per legge l'attrazione, ti fa attraere proprio quelle situazioni in cui la paura verrà amplificata. Perché è inevitabile, è inevitabile, noi esseri umani siamo fatti così. E quando abbiamo paura, pensa te, nel panico di un incendio, la paura prende il sopravvento, le persone fanno le cose più strane, che non hanno nessun senso, che le portano, diciamo, nella direzione sbagliata e non ottengono nessun risultato. La paura genera panico, genera angoscia. E quando tu vedi uno stato d'angoscia, cosa vuoi fare? Sei, è come prendere, è come prendere un, non so, un corridore, anche quello più bravo, che ne so, nei 100 metri, sei in bolt e prima di, diciamo, di fare la gara, gli dai ne fai cassata di botte, lo lascia a digiuno per, che ne so, una settimana e poi dirgli di andare a vincere la gara anche se sei più bravo. Non ce la farà mai. Non ha nessuna possibilità di riuscire a conquistare proprio nessuno. E invece fare di tutto è importante. Intanto la prima cosa che devi fare è accettare la situazione per quello che è. Accettare non vuol dire rassegnarsi. Sono due cose molto diverse. Perché rassegnarsi è un qualcosa di passivo, molto negativo. Se io mi rassegno, vuol dire, la sfortuna, sono uscito difettoso dalla fabbrica, devo rassegnarmi a questo fatto. È giusto che prendo le bastonate perché sono difettoso, c'è qualcosa che non va. È giusto che non riesca a conquistare nessuno. E cosa faccio? Mi lamento. E più mi lamento, diciamo così, più vado a, più mi lamento, più vado ad amplificarmi, più vado ad amplificarmi le negatività, più vado ad amplificarmi le possibilità di insuccesso fondamentalmente. Perché è veramente un loop. La lamentela, diciamo così, è quella cosa inutile che va a conclamare il nostro problema. Perché se ci lamentiamo è come se mandiamo un messaggio al nostro cervello, guarda che è un problema in quel settore. Se io mi lamento che ho mal di denti, lo sento sempre di più il mal di denti. È come se portassi l'attenzione sul mio mal di denti. E nelle relazioni sentimentali è esattamente la stessa cosa. Più io, diciamo, soffro, più mi lamento, più mi lamento, più soffro e vado avanti così, senza riuscire a ottenere niente. Perché poi è come se andassi a definire che sono sfigato. È come se andassi a definire che non ho nessuna possibilità di conquistare che mi interessa. È come se andassi a definire che è giusto che le cose vadano per il verso storto. Però, da un certo punto di vista, invece vorrei fare qualcosa, ma non ci riuscirò mai. È come dire, è come pensare di centrare un bersaglio, di sparare un bersaglio e centrarlo con la mano che trema. Certo, ti potrà capitare il colpo di culo, ma sarà sempre, diciamo, un colpo di culo che forse capiterà, ma molto raramente. Come pensare, piglio una scimmia, vi faccio digitare a caso sui tasti di un computer e spero che mi scrivi la Divina Commedia. Potrà scrivere la Divina Commedia? Ma, vuol dire, se mai non esiste, potrebbe anche scriverla, ma che probabilità potrà avere di scrivere la Divina Commedia? Praticamente nessuna. E allora, quindi, quello che devi fare è fare di tutto in modo, quindi accettare la realtà che non significa rassegnarsi. Se la realtà è che questa preferisce un altro o un'altra a te, questo è il punto di partenza. Non devi stare lì a lamentarti, ma non è giusto, capita sempre a me, preferiscono sempre gli altri, e come è possibile? È qua, è su, e non è giusto che si comporti così. Giusto o non giusto significa proprio niente. Se questa o se questo si comporti in quel modo lì, è perché lo può fare, perché ci sono cause e condizioni che lo possa fare. Quindi è utile a lamentarti, come dire, mi lamento perché piove. E che cavolo vuoi? Piove, devi prendere atto che piove, quella è la realtà, e piglia l'ombrello, vuol dire, fai qualcosa, utilizza, vuol dire, l'accettare il fatto che piova, vuol dire che poi, da lì in poi, farò tutte le cose necessarie per ripararmi dalla pioggia, per prendere rifugio da qualche parte in modo che non piova, per spostarmi piuttosto da un'altra parte dove non piove. Ma la pioggia devo accettarla, non posso prendermela con la pioggia perché piove. E com'è? Che ne so, uno nasce, che ne so, senza capelli e se la prendi inizia a lamentarsi che è senza capelli. E se è senza capelli, quello è andato di fatto, è la tua realtà. Poi, se non ti sta bene, farei qualcosa per averlo, oppure cercherai, diciamo, i vantaggi dell'essere senza capelli, tipo, andiamo da parrucchiere, secondo, devi asciugarteli, terzo, che ne so, ce ne sono tantissimi vantaggi nell'essere senza capelli piuttosto che avere i capelli. Inizia a vedere quelli che sono i vantaggi ed utilizzare i vantaggi nel modo migliore, utilizzare ciò che hai nel modo migliore, perché è inutile che tu ragioni con quello che non hai. E se fossi innamorato di me, se fossi innamorato di me, allora sì che sarebbe un'altra cosa. È innamorato di te? No. E allora accetta il fatto che non è innamorato di te. Poi farai delle cose, fai di tutto affinché si innamori di te, ma senza soffrire. Soffrire è proprio l'unica cosa che non serve per far innamorare quella persona. Anzi, più soffri, più si disnamorerà di te. Quindi questo è un dato di fatto che devi prendere in atto fondamentale. Invece le persone fanno esattamente il contrario. Soffrono e si lamentano. Si lamentano e soffrono. E questo non serve assolutamente a niente. Cioè, avesse un'utilità, ripeto, benvenga la sofferenza. Avesse un'utilità, benvenga la lamentela. Ma sono inutili. Oltre che far disperdere energie, perché diciamo che disperdi energie a lamentarti, disperdi energia a soffrire. E quindi hai meno energie per fare altre cose. Altre cose che ti porterebbero nella direzione giusta. Altre cose che ti darebbero la possibilità di ottenere dei risultati positivi. Quindi cerca di metterti in testa queste idee perché sono fondamentali. E anche di qua tutto passa attraverso l'amore per se stessi. Attraverso l'autostima. Attraverso la possibilità di interagire positivamente con gli altri. Perché noi possiamo interagire con le altre persone. Siamo tutti interdipendenti. Quindi anche nel bene, voglio dire, cioè ogni cosa cambia, ogni cosa si trasforma. Se questa oggi non ti ama, magari domani ti amerà. Ma se farei le cose giuste. Perché altrimenti, ripeto, per colpo di culo può succedere di tutto. Cioè può succedere veramente di tutto. Però non puoi vivere aspettando la manna dal cielo, aspettando il colpo di culo. Perché, come diceva nel proverbio, la sfortuna è cieca, ma la sfiga ci vede bene. E quindi è più facile che ti capiti qualcosa. Quindi devi interagire. L'unico modo che noi abbiamo è interagire. E interagire positivamente vuol dire andare a capire. Mi interessa questa persona. Quali turbamenti avrà questa persona? Un essere umano. Avrà dei turbamenti. Avrà dei punti deboli. Avrà delle emozioni compresse. E allora andiamo a scoprire quali sono queste emozioni compresse. Quali sono questi turbamenti. Quali sono questi punti deboli. Andiamo ad amplificandoli. Andiamo a somministrarli delle emozioni. Così uno deve ragionare. E allora se ragioni in questo modo. Se inizi a capire qual è la leva, qual è il tasto su cui andare a pigiare l'acceleratore. Allora sì che avrai le possibilità di conquistarlo. O di conquistarla e di farlo innamorare. Anche se attualmente non è innamorato o innamorata di te. Queste sono sempre le possibilità che avrai. Però devi utilizzare nel modo giusto. E poi potrai utilizzare le strategie diciamo così della seduzione, della comunicazione seduttiva soltanto se non soffrirai. Perché se soffrirai, se avrai dei vincoli, ricordatevi che il vincolo vincula. Cioè ti mette le condizioni che ti impediscono di ottenere, di raggiungere dei risultati. Questo è uno stato mentale che tu devi acquisire. Perché se non riesci ad acquisire il giusto stato mentale, se non riesci ad acquisire le giuste capacità, non otterrai niente. Ma devi partire sempre da te stesso. Tenendo presente anche un'altra cosa. Che la realtà esterna è sempre una proiezione della realtà interna. Quindi se non puoi cambiare gli altri e non puoi farlo, puoi cambiare te stesso o te stessa. E nel momento in cui cambierai te stesso o te stessa, sviluppando l'autostima, sviluppando la capacità di interagire, riducendo la sofferenza, eliminando direi meglio la sofferenza e smettendo di lamentarti. Perché lamentarsi veramente è una disgrazia mandata da Dio che dovremmo liberarcene tutti, non serve assolutamente a niente la lamentela. Allora a quel punto lì potrai ottenere dei risultati. E cambiando te stesso vedrai che cambierà il mondo che ti circonda. Perché il mondo che ti circonda è semplicemente una proiezione di ciò che hai dentro. Quindi cambia te stesso sviluppando d'autostima. E allora se al posto della paura verrà il coraggio, se al posto dei turbamenti verranno delle sicurezze, allora vedrai che per leggere attrazione attirerai nella tua vita situazioni che ti daranno benessere. Se poi combinazione quella persona non riuscirai perché per mille motivi, ma vaffanculo, siamo in 7 miliardi, ne troverò altre 6 miliardi meglio di questa o di questo. Qual è il problema? Il problema ce li facciamo noi. Noi siamo gli artefici del nostro inferno. Noi possiamo anche essere però gli artefici del nostro paradiso. Questi temi e insieme ad altri temi li tratterò venerdì 5 maggio alle ore 20.45 a Torino presso l'educatore della provvedenza in corso 3013. Se vuoi approfondire il riferimento è il 333 15 11 703. Spero già con questo video però di averti dato delle informazioni utili per reimpostare in modo positivo la tua vita. Comunque per approfondire ripeto l'appuntamento è venerdì 5 maggio a Torino 20.45 e tutte le info le trovi nel box. Iscriviti al mio canale YouTube perché se ti iscrivi al mio canale YouTube potrai vincere dei corsi gratuiti con me. Ciao a tutti!